Antonello Guagliata, è cominciato il campionato 12-1, però è ancora attiva sul mercato la S. Siamo qua per annunciare il matrimonio tra Stefano Tangini e la S. Già sebbene tutto quanto. Sono informatissimi. Si, ha firmato martedì, ci ha dato il documento proveniente dall'Atletico Città e che è tornato con noi. Ne abbiamo parlato e ci fa piacere avere una persona come Stefano Tangini, sia in squadra che nello spogliatoio. Vedremo come reagire a questo ginocchio che deve curare. Qual è la sua situazione? Ha problemi con il ginocchio, non so se si ha il menisco, basta fare un po' di terapia, un po' di palestra. Comunque c'è 6 o 7 giornate di squalifica, perciò ha tutto il tempo che vuole. Comunque noi lo accogliamo a braccio aperto. Come è nato tutto? Ci vuole raccontare qualche aneddoto sulla trattativa? Come è nato? Guarda, io e Stefano siamo molto amici, come molto amico di Umberto, di Umberto e poi è stato già il Citecchia Calcio 5. Perciò basta una chiacchierata a metterci d'accordo. Tutto qua. Però si è ufficiale Stefano Tangini al Citecchia Calcio 5. Grazie a tutti. Guardi una stessa esagerata a metterci di umano del intervenire del Stato 50. E allora, l'onsta è stato� Cannpoon, che è troppo di吸 consumption, ati pubblicare. E allora, tui, un po' di più, che, pretty. E allora, un po' di più. Grazie a tutti